E ora vai, Silvestre, salta, abbandona questa gente. Solo tu e Clementina vi salverete. Sì, di loro, che credono in me, amali come te stesso, l'invito più bello che c'è. E io l'ho imparato proprio da te, sì, questo è l'amore secondo me. Avrai nuova gente da amare, ragazza, e non ti sarà difficile, vedrai. La gente secondo me è una splendida pianta di cui io non sono che un ramo, è amore. Ed amando ciascuno di loro, signore, io t'amo. E quindi io non posso lasciarli, è proprio più forte di me. No, io devo restare insieme alla gente. E la mia gente, la devo accettare, in tutto e per tutto, nel bello e nel brutto, perché... Questo è l'amore secondo me, sì, questo è l'amore che ho imparato da te.